La WWE non si è mai fermata durante la pandemia, una scelta che in passato ha sollevato qualche dubbio. Ne abbiamo parlato anche in alcune delle nostre dirette. Dall'altra parte della barricata però ci sono testimonianze come quella condivisa di recente da Stephanie Gmemeon che ha rivelato quanto segue tradotto e adattato in italiano. State a sentire. L'evento a tema WWE di venerdì scorso in Connecticut della fondazione Make a Wish mi ha colpito molto. Ero lì con una delle mie figlie e con Babbo Natale a salutare le famiglie che potevano seguire un percorso speciale in auto con tutte le garanzie di sicurezza del caso. Ad un certo punto una madre seduta nel posto del passeggero si commuove visibilmente e mi spiega quanto è stata dura la quarantena per il loro nucleo e quanta paura abbia per suo figlio visto che per via delle condizioni mediche in cui versa è un soggetto ad alto rischio. In tutto questo ha aggiunto di essere profondamente grata alla WWE per essere rimasta sempre in onda. Mi ha detto non ha idea di cosa significhi avere una via di fuga dalla realtà sulla quale fare affidamento ogni settimana. Stava visibilmente tremando e le sue parole mi hanno ribadito quanto sia un privilegio far parte di un marchio che può avere questo tipo di impatto. beh insomma chiaro Stefani mischia un po' il marketing ai sentimenti però io le credo e come ho avuto modo spesso di dirvi anche le cose teoricamente meno culturali hanno questo potere il potere del conforto il potere della lenizione il potere della compagnia figuriamoci su un ragazzino la cui candela di vita è sempre sul punto di potersi spegnere e quindi ho trovato questa storia molto interessante e ho voluto condividerla con voi.